Che tipo di integratore assumere dal punto di vista della formulazione farmaceutica? È meglio la pastiglia? È meglio la forma orosolubile in bostine? Naturalmente questo dipende veramente molto da che cosa preferisce la donna perché siccome è un'integrazione che va fatta prima alla gravidanza, durante tutta la gravidanza e auspicabilmente tutto il puerperio finché la donna allatta, ecco che scegliere la formulazione più gradevole per la signora è certamente un aspetto molto critico per la continuazione di utilizzo di quell'integratore. Abbiamo anche la possibilità di integratori, quindi non solo in compressa o in capsula, ce ne sono molti, anche in bustina. La bustina orosolubile, quindi me la sciolgo nel bicchiere d'acqua, ha una serie di vantaggi innanzitutto per tutte le donne gravide o meno che non riescono a assumere le pastiglie. Sono molte di più di quello che si pensi, soprattutto se la compressa o la capsula è piuttosto di dimensioni elevate e non piccolissima. E' ancora importantissimo ricordarsi l'orosolubile per le donne che soffrono di vomito gravidico, la donna che non riesce come si dice a tenere giù niente, provare magari dividendo la stessa bustina in due volte in maniera tale che la signora possa assumerla perché a maggior ragione, in condizioni di un'alimentazione molto limitata, alcune donne riescono per esempio a mangiare solo il riso in bianco, ecco che dare l'integrazione è ancora più importante per fornire tutti quei mattoncini essenziali alle primissime fasi di crescita del bambino quando si formano tutti gli organi, la cosiddetta embriogenesi che si realizza nelle prime 14 settimane di vita. E' ancora le donne che soffrono di reflusso, di acidità gastrica, nelle quali certamente la formulazione orosolubile è più adatta rispetto alla pastiglia che si ferma nello stomaco, come dicono le signore. Ancora le donne che hanno un'alimentazione inadeguata scorretta, questa per mille ragioni, o che hanno delle scelte alimentari che le rendono più vulnerabili alle carenze, in particolare vegetariane e vegane, le donne sovrappeso e obese perché paradossalmente hanno carenze molto più marcate dalle donne normo peso, quelle con intolleranze alimentari, grande attenzione all'intolleranza al lattosio per esempio, che è un eccipiente presente in quasi tutte le capsule e le compresse. Invece l'avere l'oro solubile senza lattosio è un'indicazione sottile, noi diciamo, ma molto utile e ugualmente le donne che abbiano celiachia o comunque sensibilità al glutine. E ancora le donne a rischio di patologie ostetriche, le donne che abbiano già avuto dei problemi precedenti, o aborti spontanei, o parti prematuri, o bambini piccoli per la data, o donne che abbiano avuto diabete gestazionale, ipertensione, sono tutte signore per le quali l'attenzione agli stili di vita, all'incremento di peso ottimale, e alla qualità già dell'alimentazione quotidiana e gli integratori sono essenziali. In particolare per quanto riguarda il bioritmo del come mangiare e cosa mangiare, c'è un aspetto di nuovo molto trascurato. Normalmente si dice di non prendere i carboidrati alla sera, attenzione, c'è una grandissima eccezione che riguarda proprio la gravidanza. Come dovremmo mandare in gravidanza? Al mattino una buona colazione con yogurt, latte, cereali, frutta, quello che la signora desidera. A metà mattina possiamo prenderci un frutto, una spremuta. A pranzo, proteine, quindi o pesce o carne o proteine vegetali, metà pomeriggio, di nuovo un frutto, ma alla sera importantissimi i carboidrati, possibilmente complessi, cereali, legumi, perché? Importantissimo, la placenta produce un ormone che si chiama ormone lattogeno placentare, che è un cugino dell'insulina e che ha una funzione fondamentale, garantire al bambino un'adeguata quantità di nutrienti e in particolare di zucchero, la glicemia di buon livello, 60 mg per decilitro, durante le ore notturne. Allora, se la mamma si mangia la grande pasta a pranzo e il riso e alla sera sta leggera, questo povero bambino resta a digiuno per tutte le ore della notte. Se invece la signora ha un'alimentazione del tipo che abbiamo destritto, pozioni più piccole, più frequenti, ma più piccole, questo anche per evitare la fermentazione gastrica dei cibi, e di sera assume carboidrati complessi, legumi, cereali, ha lento quindi assorbimento glicemico, garantiremo che cosa? Che la glicemia della mamma arrivi a 100-110, cioè non ha dei picchi, gli dolci proprio evitiamoli. E abbiamo un gradiente, cioè una differenza di livello glicemico tra la mamma, 90-100 mg per decilitro, e il bambino che naviga sui 60. Questa differenza garantisce al piccolino, grazie all'ormone lattogeno placentare, di ricevere dalla mamma durante le ore notturne, quell'apporto di zuccheri, di sostanze nutritive ideali, con quali risultati ottimali. Da un lato, che la mamma invece di mettere su 20-30 kg e avere un bambino piccolo per la data, metterà su quei 10-12 kg se partita normo peso, e il piccolino nascerà normo peso. Quindi ricordiamoci che la biologia ha pensato a tutto, la placenta produce l'ormone lattogeno placentare, ma noi lo dobbiamo aiutare collocando gli zuccheri complessi, cereali e legumi alla sera, e lasciando invece le proteine a pranzo, proprio per garantire un bioritmo glicemico favorevole al bambino e che tenga la mamma normo peso e non ad accumulare grassi nel tessuto adiposo. Quindi adeguarsi ai bioritmi della gravidanza, anche per quanto riguarda la scelta e possiamo dire la collocazione dei cibi nelle varie ore della giornata. Grazie mille! Grazie mille!